Eccoci, siamo di nuovo pronti per un nuovo campionato, ci ritroviamo con il torneo alle porte e con un calcio italiano che dimostra evidenti difficoltà, sia dal punto di vista federale per tutta una serie di vicende che si sono susseguite nel corso di questo 2023, dai tribunali sportivi e non per la Juventus, per la Serie B, dagli insuccessi tramorosi dell'Under 21, della nazionale femminile e poi la notizia delle dimissioni di Mancini, qualcosa che è stato un fulmine al ciel sereno ma che dimostra un malessere nella gestione generale di questo calcio italiano che è alle prese con un'evidente difficoltà economica, ma non solo economica, ha bisogno veramente di nuovi impulsi e di riforme, ma occupiamoci e concentriamoci sul campionato, soprattutto su questo aspetto che parte sì il torneo ma il mercato è ancora in corso e per avere un'idea precisa del reale valore delle squadre bisognerà attendere il primo settembre, non è una novità però a mio avviso è qualcosa che va cambiato in ambito nazionale ma in ambito internazionale, perché non può essere che un campionato inizia e il mercato finisce a una data, in un'altra nazione succede con altre date, insomma è veramente una gran confusione e credo anche che con questo arrivo così determinato e perentorio degli arabi qualcosa vada fatto. Comunque, pensiamo alle nostre squadre, il Napoli a mio avviso parte favorito non solo perché è campione d'Italia, ma perché credo che è la squadra che ha cambiato di meno, anzi sta investendo per il presente e per il futuro, a dimostrazione di una grande lungimiranza e anche di una potenzialità che altre squadre non riescono ad avere, anche le più blasonate, proprio per mancanza di soldi. Comprare giocatori bravi, giovani significa investire ma significa anche patrimonializzare, cioè avere la possibilità di avere poi eventuali sessioni per rafforzare ulteriormente la squadra. Comunque, il vero rafforzamento del Napoli, a di là dei giocatori come Nata, Mocla Giuste o Gabri Vega, che sono arrivati e che stanno arrivando nel caso di Gabri Vega nel momento in cui vi sto parlando, il grande rafforzamento del Napoli è la permanenza di Osimène, perché credo che sia in ambito nazionale ma soprattutto per la Champions League sia un giocatore straordinario e fondamentale per fare un ulteriore passo in avanti da parte della squadra di Garzia. L'unica, chiamiamola incognita, novità che dobbiamo verificare sul campo è cosa apporterà Garzia a questa squadra che così bene ha fatto l'anno scorso, ha giocato un calcio bellissimo, ha stravinto il campionato, ora bisogna cercare di vincere un po' quella che può essere, non dico la presunzione, ma il fatto di adagiarsi un po' sulle vittorie, insomma serve qualcosa di nuovo. Vediamo se Garzia sarà in grado di darlo. Comunque il Napoli è la squadra indubbiamente da battere, si sono mosse e hanno cambiato tanto le milanesi, soprattutto il Milan, e questa forse è l'incognita, giocatori bravi e interessanti, però bisogna metterli insieme. L'Inter è vero che ha cambiato e ha comprato anche dei giocatori, primo fra tutti i frattesi, per me l'acquisto migliore di questo calcio mercato fin qui, però ha anche perso pezzi da 90, perché è inutile dire o nascondersi dietro un dito. L'Inter non ha Dzeko e Lukaku in attacco, non ha Brozovic al centrocampo e non ha Skriner in difesa. Qualcuno dirà ma Skriner ha giocato pochissimo, comunque sta di fatto che Skriner era un giocatore importante per l'Inter. Le Romane, credo che la Lazio abbia la certezza del suo gioco, del gioco di Sarri al terzo anno, e che abbia giustamente ampliato la rosa per il doppio impegno campionato Champions League. Ed è una Lazio, secondo me, che può recitare un ruolo da protagonista in questo torneo, partendo dalla base di un gioco solido con più alternative. Rovella e Isaksen, per esempio, sono due giocatori, a mio avviso, molto interessanti, così come Kamadà. Vediamo, insomma, io penso che la Lazio possa essere veramente un'ottima squadra. Per quello che riguarda invece la Roma, siamo il tormentone dell'estate e l'attaccante. È più forte, a mio avviso, nel complesso, soprattutto in mezzo al campo, anche con gli ultimi arrivi. Ci sono dei sei legati alla capacità di rendere al meglio di Paredes e soprattutto di Renato Sanchez, ma a me sembra che in difesa, a centrocampo, come soluzioni, Mourinho abbia molte più alternative. Vedremo cosa accadrà in attacco. Certo, Belotti, peggio dell'anno scorso, non può fare, può solo migliorare, visto che ha un bottino di zero gol. Le sorprese di questo torneo potrebbero arrivare dalla Fiorentina, che si è ben rafforzata soprattutto in attacco. Curiosità per l'Atalanta, che anche lei ha cambiato, Scamacca, Decatelere, Touré. Insomma, sono due squadre, l'Atalanta e la Fiorentina, che a mio avviso hanno le qualità, le potenzialità per fare bene. La Juventus. La Juventus è una squadra a cui bisogna fare attenzione, da sempre, perché la Juventus parte sempre per vincere, sempre indebolita per l'aspetto economico o per il fatto di essere ridimensionata. Ma pensare alla Juventus, che gioca solo il campionato, a mio avviso deve essere un pericolo per tutte quelle che hanno ambizioni. Se oggi, visto che tanto tutti quanti lo fanno, lo voglio fare anch'io, se oggi dovessi fare la griglia delle mie prime quattro di questo campionato, io metterei il Napoli, la Juventus, l'Inter e la Lazio. Vedremo. C'è tempo anche per cambiare, visto che, come ho detto, solamente dal primo di settembre in poi avremo un quadro definitivo delle squadre. La prima di campionato è una prima di campionato che non ha match clou, ma ha match e guerre interessanti. Ci sarà la sorpresa? Probabilmente sì. Sono curioso di vedere Genova-Fiorentina, il Genova che, pensate, tutte le grandi squadre hanno problemi in attacco, chi è andato a comprare l'attaccante della nazionale italiana è il Genova. Retegui ha ambizioni la formazione di Gilardino e le ha anche la Fiorentina. Quindi è uno dei match interessanti come lo è Sassuolo-Atalanta, due squadre che rappresentano due modelli del nostro calcio attuale. Per l'Egbig, insomma, partite difficili e ostiche, perché sono appunto all'inizio della stagione, viene da pensare alla Juventus con l'Udinese, alla Roma contro la Salernitana, al Milan che va a Bologna, insomma, l'Inter che gioca con il Monza. Da una di queste partite sicuramente potrebbe nascere una sorpresa, ma fare dei pronostici, insomma, mi sembra abbastanza scontato e riduttivo, almeno adesso. Sarà interessante vedere come partiranno le squadre, magari la prossima settimana faremo una valutazione migliore, anche perché avremo una settimana in meno di calciomercato. Buon campionato a tutti!